Fanno ricerca nei campi delle neuroscienze dell'industria 4.0 dell'agricoltura smart oppure studiano per sviluppare giocattoli intelligenti capaci di captare informazioni utili su bambini che hanno dei problemi nello sviluppo. Sono i ricercatori i protagonisti della prima tappa di Giovani Sì in tour con il presidente Eugenio Gianni, studenti che hanno usufruito delle borse di dottorato internazionale Pegaso, promosse dalla regione toscana con Giovani Sì, il progetto nato nel 2011 per fornire strumenti per l'autonomia dei giovani. Le borse di studio nel periodo 2014-2020 sono state finanziate con il Fondo Sociale Europeo, mentre per il 2021-2022 sono finanziate dalla regione toscana. Stamani abbiamo presentato quello che è l'obiettivo delle 77 borse di studio Pegaso, sono il frutto di uno stanziamento che per la prima volta la regione toscana ha voluto fare per puntare sui suoi giovani, ovvero 5 milioni di euro che in un bilancio bisfrattato da tutto l'aumento delle spese sanitarie relative al Covid, comunque volevamo fare e che abbiamo destinato a borse di studio per giovani che possano dare un salto di qualità anche in termini di innovazione ai nostri sistemi produttivi, ai nostri prodotti, insomma puntare sulla ricerca. La prima tappa di Giovani Sì in Tour è stata dedicata all'alta formazione, ma Giovani Sì agisce anche negli ambiti dei tirocini, del servizio civile, del fare impresa, del lavoro e della prima casa in cui vivere in autonomia. All'evento al teatro della compagnia hanno partecipato diversi dottorandi che hanno raccontato le loro ricerche nei campi delle neuroscienze, dell'industria 4.0 o dell'agricoltura smart. Dalle parole delle ragazze e dei ragazzi che in questi anni ne hanno beneficiato, ne stanno beneficiando, abbiamo potuto toccare con mano quanto questo intervento sia importante e fondamentale dal punto di vista della formazione, ma poi anche per poter garantire a loro una maggiore e migliore occupazione. E questo anche dal punto di vista di andare a implementare l'innovazione e la competitività anche delle nostre aziende, del nostro tessuto produttivo, perché voglio ricordare che le borse Pegaso vedono una sinergia tra istituzioni universitarie, enti di ricerca ma anche realtà produttive del territorio e questo io credo che sia davvero fondamentale e sia un valore aggiunto per un intervento di questo tipo. Collegati dal remoto hanno assistito all'evento altri 100 dottorandi e i rettori degli Atenei Toscani. Giovani Sin Tour è un format che ha l'obiettivo di raccontare il progetto per l'autonomia dei giovani attraverso le storie di chi ne ha beneficiato. Sostenere i giovani e la ricerca è un obiettivo specifico della regione toscana. Noi vogliamo davvero impegnarci in questi cinque anni al fianco dei giovani. Il mondo cambia anche con quello che è successo con il Covid. Noi crediamo che le nuove opportunità passano attraverso la nostra generazione e quindi averli qui oggi come protagonisti e non come spettatori credo sia l'esempio più bello per chi ci guarda da casa, che i giovani hanno davvero tante potenzialità, quel che manca sono gli spazi e gli strumenti giusti per esprimere queste potenzialità. La regione è in campo proprio per questo, per dargli una mano. Le borse Pegaso hanno durata triennale e prevedono periodi di studio e ricerca all'estero di almeno sei mesi, ma i percorsi di dottorato devono essere realizzati in ambiti innovativi di realtà toscane con l'obiettivo di avviare giovani laureati a settori strategici per lo sviluppo regionale. Da 2014 a 2020 sono state assegnate 570 borse di studio, un investimento da 33 milioni di euro finanziato dal Fondo Sociale Europeo. La regione toscana finanzia invece le borse di studio per il 2021-2022 con un investimento vicino ai 5 milioni di euro. In Toscana c'è genio, c'è creatività, soprattutto nei nostri giovani. Dare soldi a borse di studio che valorizzino la ricerca è un obiettivo strategico che ci poniamo. E' molto bello stamani veder raccontata l'esperienza di questi giovani che hanno vinto la loro bosta di studio. 5 milioni non sono pochi ma noi crediamo nei giovani, nella loro motivazione attraverso la ricerca a far fare un salto di qualità, di innovazione a tutta la nostra società. Nella prima tappa di Giovani Sintour ci sono state molte testimonianze sull'importanza di queste borse di studio come quella di Mattia Franchi De Cavalieri che ha una borsa Pegaso alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e porta avanti un progetto sui giocattoli intelligenti alla stella Maris di Pisa. L'obiettivo principale è quello di sviluppare dei giocattoli che possano essere integrati in una palestrina già creata smart il cui obiettivo è quello di detettare e monitorare dei disturbi del neurosviluppo incipiente in bambini, in infanti, nei primi mesi di vita. Questo perché si spinge molto sulla early intervention che principalmente è un intervento il prima possibile per poter migliorare le aspettative di vita dei bambini. Cosa significa giocattoli intelligenti? Sì, sono giocattoli intelligenti perché al loro interno hanno un'integrazione tra sensori che permettono di ricavare forze o anche le accelerazioni, comunque dei parametri oggettivi che possano quindi creare una base per poter stabilire se effettivamente ci sta uno sviluppo che segue una giusta traiettoria rispetto a uno sviluppo che appunto sta andando verso una patologia. Laureata in medicina, Laura Pavese ha vinto la borsa Pegaso per portare avanti la ricerca nel campo delle distrofie retiniche ereditarie. Si tratta di cose molto complesse, le condizioni cliniche sono molto eterogenee, basti pensare che si parla di un tipo specifico di distrofia retinica ereditaria causata da un gene specifico e non si parla ovviamente di ridare la vista perché non è una cosa realistica, ma l'obiettivo è quello di poter quantomeno arrestare la progressione di queste patologie, di questa patologia nello specifico che può portare appunto negli stadi terminali a cecità. Ma le borse Pegaso aiutano a sviluppare progetti in vari campi, come l'agricoltura. Grazie a questo dottorato mi sto occupando di quella che è l'agricoltura 4.0 e quindi di applicare tramite un sistema di monitoraggio che utilizza svariati sensori andare a effettuare lo studio all'interno di un'azienda agricola quale può essere ad esempio un oliveto dove attualmente sono installate le stazioni nella zona di Vecchiano, nel Pisano, allo scopo di andare a effettuare una prevenzione delle malattie delle piante o ad esempio la nascita di parassiti come la mosca famosa, nello specifico di un oliveto. Nel settore dell'industria smart la dottoranda Elena Coli ha lavorato a un progetto di analisi automatica di testi. Vi faccio alcuni esempi di cose su cui ho lavorato. Io ad esempio ho analizzato job profiles, quindi semplicemente manzionari, per cercare di capire quali profili professionali mancavano all'interno delle aziende. Quindi si riesce a dare un'idea di quali competenze si hanno internamente, partendo dai testi e confrontando le competenze interne con delle competenze estratte da brevetti, ad esempio, che cercano un po' di anticipare sempre le tariettorie tecnologiche. Ecco, comparando questi due set di competenze, si riesce a capire di che cosa l'azienda avrà bisogno fra magari dieci anni e li permettiamo di assumere oggi dei profili che gli serviranno domani. Nelle prossime tappe di Giovani Sì in tour con il presidente Eugenio Gianni verranno affrontati gli altri campi di autonomia dei giovani che il progetto Giovani Sì sostiene e porta avanti. Il presidente ha proprio il desiderio di conoscere le persone che in questi anni hanno potuto beneficiare di questo tipo di interventi. Oggi parliamo di Bolze Pegas, ma parleremo di servizio civile, potremo parlare di lavoro, di tirocinio, di imprenditoria. Giovani Sì negli anni ha offerto opportunità concrete a 365.000 giovani con più di un miliardo di euro di risorse impegnate.